Io sono del partito che la carne migliore è quella che rimane attaccata all'osso L'allevatore ha fatto il suo lavoro, gli è riuscito bene, gli è pure riuscito bene Tirrenia, cittadina sul mare a metà strada tra Pisa e Livorno Qui abbiamo scovato ragazzi una stack house che merita una visita Chilometri per arrivare a Pisa? Sono 18 Chilometri per arrivare a Livorno? 15 Quindi stavo proprio a metà strada, ho detto bene Hai detto bene Ma è provincia di? Di Pisa Benissimo, ok Però è più vicino a Livorno, hai capito mica? Non ci ha capito niente però avete capito voi Allora là dietro c'è quella stack house che stiamo andando a visitare, si chiama Barroso Eccolo, siamo arrivati, ristorante beef steccheria, notare il gioco di parole L'avevi mai vista una beef steccheria? No, una beef steccheria no Belloso C'è il toro, insomma c'è tutto La prima cosa che salta all'occhio è questa parete di carne Faccio così? Sì Faccio come qua la Barale davanti il tabellone di Mike Buongiorno Perciò vieni Paola così puoi fare il gioco Buonasera Hai detto Barale e Mike Buongiorno Ci siamo praticamente giocati e tutti nati dal 2000 in poi Adesso mi fai anche un paragone con la Ferragni e Fedez va bene? Come fa la Ferragni quando va nella sua cabina armadio Insomma immaginatevi quanto è grande la cabina armadio della Ferragni Benissimo, ora abbiamo anche il pubblico nato dopo il 2000 Però prima di entrare nelle viscere dei ristoranti Ho una ghiacchiera veloce col proprietario Me la farei Amici di Bracimi ancora lui e Nicola Il proprietario di questa bella steak house Nicola Tu di dove sei? Di Pisa Avevi un ristorante a Pisa Sotto la torre Sotto la torre Però non ti piaceva? Non mi piaceva Ci ho passato 20 anni della mia vita Gli devo tanto a quel posto Però poi ho voluto prendere solo la parte Che piacerebbe trovare a tavola a me Di questo mestiere Perfetto E quindi mi sono spostato in una zona molto più appartata Dove i tavoli possono essere larghi Dove l'ambiente è sicuramente più rilassante Ho visto la selezione qui dietro Mi sembra molto interessante E facciamo una piccola intrusione in cucina? È regolare Signori Entriamo nel tuo regno Prego Guarda qua che bella macchina che c'ha Lui c'ha la Ferrari Senti, da che iniziamo? Una bellissima, fantastica tartare di podolica Una riduzione di cipolle di tropea e lamponi Accompagnata da una patata pavè E una mousse di foie gras e nocciola Ragazzi ormai lo sapete L'esame di Paola sulle tartare è spietato Vediamo che ci dice Questo è un piatto che mostra subito i muscoli La noctua, una birra bionda artigianale con una leggera cadenza limonata che si addice perfettamente alle tartare Sofia ci ha portato la birra ma volendo avrei potuto ragazzi scegliere fra tutti questi vini Non male Ah guarda che ho visto, vieni qua Questo è Roselito, Hamon, Gran Riserva Questo è il top del top Qua si va in paradiso Sì d'accordo, costerà un pochino di più rispetto agli altri prosciutti ragazzi Ma stiamo proprio su un altro pianeta È arrivato il momento del maiale Non ce lo spiega lui però Luca Ciao Un maialino iberico Che cosa faccio? Lo disosso E poi lo faccio ripieno con del fungo al noncello saltato con un pochino di odori Salamella Exclusivamente mantovana Cuocio Va a 68 gradi 4-5 ore e poi riferito al nostro amico Eccoli Pronti Morbido e morbido La gotenna pure Si vede che ha avuto una cottura a bassa temperatura prima di passare nel josper Sapete che vi dico? Che la combo cottura CBT josper è spaziale Poi se ragazzi volete godere dovete raccogliere la sanzetta e pucciare così Puccia 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 Vedete? Ho individuato una cosa nella cella a frigo Seguimi Ma c'è un bel pezzo di carne giapponese E ho letto nel menù che fanno un piatto con il Kobe molto 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 interessante Questo ragazzi è il pezzo originale che il buon Luca fa diventare praticamente dei cubetti Salsa mirina e soia Con questo piatto sembra di stare un ristorante giapponese Tendenzialmente dolce come piatto Qualcuno potrebbe dire Ma Michele non era troppo poco il Wagyu? No assolutamente no Perché quei bocconcini sono secondo me la porzione adatta Perché il Wagyu ricordiamoci ragazzi è una carne molto 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 grassa E devo dire interpretazione interessante Mi è piaciuto Io lo riordinerei Buona la tartare Che gli vuoi dire al maialino Eppure il Wagyu a cubetti niente male Ma noi siamo qui ragazzi Per i bistecconi là dietro Per quelle quanti saranno? 500-600 bistecche Se facessimo bistecche da 500 grammi ce ne uscirebbero 4-500 No di più Di più dici? Sì sì Ah ok Secondo me da un chilo sono 300 tutte E devo dire ragazzi Gran bella parete ferico Gran bella esposizione Gran bella scelta di carni Io direi che dobbiamo andare a fare un'analisi approfonda Qui abbiamo un Angus iberico ragazzi E solo questa T-Bon Secondo me vale il prezzo del biglietto Cioè è un motivo valido per stare qui Boom Ancora Angus iberico Boom Vacca vecchia galiziana Boom L'Angus di Mr. Beefy L'Holstein Che è una razza olandese Parma gialla Questa mai sentita Masoria Simmental E ancora Podolica Ancora Simmental E vai Prima anta Boom Apriamo la seconda Guardate che bel lumbo Pazzesco Qui abbiamo Sashi Giusto? Solo questi tre lombi Fanno Almeno 100 bistecche E poi Quarta anta Ibi a Luismi Ragazzi guardate che grasso giallo fotonico Black Angus USA Chianina Quindi abbiamo in Italia 100% Scottona Mazzuri Ancora La podolica Mazzuri scottone Un taglio Un taglio Tom Ragazzi quanta roba Io ho un paio di cosette interessanti da assaggiare Già l'avrei vista Ragazzi quelle bistecche le voglio vedere più da vicino Ok Però c'è un problema La prendo io non ti preoccupare Io devo tenere la telecamera E qualcuno deve tirare fuori sti lombi da stacella a frigo D'altronde ragazzi Ognuno ha il suo ruolo Ti chiamo un aiuto Sofia scusa Potresti venire a dare una mano a Paola? Vorrei che mi tiraste fuori questo Grazie Sì tu e Sofia Il Black Angus Quello accanto Dai su su ragazze Appoggiate qui Questa chianina grazie Senti Là c'è una podolica Mi piace fare queste cose Capito? Da morire Ah l'Angus Iberico Bello E il Parma Giallo Bello Oh mi piace Questa ragazzi è solo una minima parte della carne Questa steak house propone ai propri clienti È una bella lotta Una ne scelgo io e una la scegli te Ma io scelgo questa ragazzi Rubia Luismi perché su questa carne c'è un sacco di racconto da fare E io allora ti scelgo questa chianina Perché la vedo molto bella E contrapponiamo due sapori completamente diversi Guarda che bella Mamma mia Eccola Perfetto Spettacolare Un chilo 8,30 Vabbè Dai Bella Come potete vedere alle mie spalle In questo ristorante ci sono circa 15 referenze Abbiamo scelto le più rappresentative di due paesi molto carnivori Questa è una bistecca di un allevatore che si chiama Luismi Mi è subito saltato all'occhio il fatto che Nicola nel suo ristorante Questa bistecca la mette 90 euro al chilo Qualcuno potrebbe dire 90 euro al chilo è tanto Arcazzo non è tanto è pochissimo Perché generalmente in Italia questa bistecca la trovate tra i 140 e 160 Addirittura 170 euro al chilo quindi io quando l'ho visto ho detto ma davvero che le cose sono due o hai deciso di guadagnarci poco oppure mi stai a fregare No mi ha fatto vedere tutto quanto ragazzi questa è la vera carne che arriva dalla Spagna di questo allevatore Ha deciso lui di fare tra virgolette un omaggio una sorta di evangelizzazione Guadagnandoci pochissimo su questa tipologia di carne che merita Quest'altra invece ragazzi classica chianina made italy 100% Allevatore molto interessante il fornitore che gli la porta di tutto rispetto Siamo di fronte ragazzi a due mondi completamente diversi Qui c'è tutta la cultura spagnola della vacca vecchia ovvero sia di animali che pascolano e vivono lentamente E ovviamente vengono macellati quando hanno 8 9 10 anni di età quindi una carne molto complessa molto elaborata E la chianina non strana molto basica ma se vogliamo molto ruspante molto genuina senza troppe sovrastrutture Ok ce le andiamo a assaggiare e le paragoniamo non sarà solo il mio palato sarà pure quello di Paola Ma pure il palato ragazzi dei po' di amici che Nicola ha fatto venire per mangiarselo insieme Che stanno di là e ci aspettano Va bene avete visto tutto boh se ne andiamo a gria e a mangiare Allora la prima cosa che si fa quando si approccia una carne frollata è usare l'olfatto Perché da questo si capisce già se è stata fatta una buona frollatura Questa si sente già dal naso che è un po' più frollata e poi c'è la prova del dito Allora questa si vede che è molto più frollata Questa c'è una frollatura di scarso un mese Sì Questa invece c'ha più di due mesi di frollatura Grasso giallo dipende sicuramente dall'alimentazione Anche da dove vive l'animale stesso dall'aria che respira Sono passati 4-5 minuti da quando Paola ha infilato il dito Qui il dito è sparito mentre invece nella rubia di Luismi è ancora presente il buchino Fatele queste prove ragazzi giochicchiateci un po' con le vostre bistecche perché imparate un sacco di cose Se ci pensate la chiadina viene grigliata da un toscano e ci siamo Ma la bistecca spagnola viene cotta su un dispositivo spagnolo E' fantastica sta cosa se tu ci pensi no? Vedi le cazzate che uno riesce a dire? Potrei andare avanti per ore però torna tutto Allora Nicola tu praticamente che fai? Prima le cuoci nel forno poi che fai? Poi se la frenesia del servizio ce lo permette quindi la tranquillità del servizio ce lo permette La lascio riposare qualche minuto in modo che riesco a guadagnare la cottura al sangue e all'interno Facendola riposare faccio scaldare la parte proprio centrale che forse è rimasta un po' fredda con la cottura Se il ristorante è maledettamente figo è merito di Rebecca che è la vera proprietaria giusto? Grazie Ho detto bene ho detto giusto? Comunque complimenti si vede che c'è il tocco femminile lo sai? Si vede che c'è il tuo tocco e grazie a te Rebecca d'avecci invitato Ragazzi questa è la chianina e questa è la rubia di Luismi E' un burro ragazzi questa rubia e devo dire che rispetto a tante rubie che ho assaggiato è anche leggermente più delicata Promossissima, safaissima E noi mentre questa va a deliziare i nostri quattro amici tagliamo la chianina Wow perfetta ragazzi Paola stesso copione di prima scegliti un pezzetto Scelgo questo che c'è anche un po' di grasso E dai Questa chianina è una roba paradisiaca perché nonostante ha pochi giorni di frollatura Siano 20 ma già di una morbidezza, di una dolcezza Si sente che l'allevamento è stato un allevamento veramente serio E per essere una chianina c'è anche un sapore che ha quel chic in più Safaissima pure questa Tutti i fenomeni a fare l'assaggio con il pezzetto di carne come in questi casi Questa è la rubia, invece questa è la chianina Il confronto io lo faccio con l'osso, ok? Questo è l'osso della rubia Io sono del partito che la carne migliore è quella che rimane attaccata all'osso Ed è qui che mi piace andare a approfondire E devo dire che c'è tutto il karate di questa rubia di Luismi E in questa rubia c'è la nota selvaggia È una carne di altissimo livello Questa è l'osso della chianina La carne è tenera, anche lei ha una sua eleganza Tecnicamente non gli si può dire assolutamente nulla Che l'allevatore ha fatto il suo lavoro Gli è riuscito bene Gli è pure riuscito bene Sarebbe disonesto dire quale è meglio e quale è peggio È giusto parlare di uno quale carne preferisce Siamo sullo stesso livello Entrambi hanno raggiunto il top delle loro categorie E ora andiamo a vedere i nostri quattro amici scrocconi Che preferiscono Attenta che mordono Allora signori scrocconi mi hanno detto E questo è il tavolo degli scrocconi Lo scrocconi numero uno Quale bistecca ha gradito? Io preferisco la seconda Quindi la chianina? La chianina Ok, scrocconi numero due Rubia Rubia? Il sapore è più intenso, più nelle mie corde Scrocconi numero tre? Sono d'accordo con lo scrocconi numero due Rubia Io invece anche io numero due, la chianina Buonissimo tutti e due Pro la chianina Ok, quindi abbiamo un pareggio Michele No Paola, Paola Non abbiamo un pareggio Abbiamo un tavolo dei democristiani Anche se sono messi d'accordo prima Poi io ero pro rubia Tu eri pro chianina 3 a 3 Grazie ragazzi Ciao Buona continuazione Ciao Abbiamo mangiato direi anche questo giro In maniera abbondante Per essere una stack house così giovane Non mi aspettavo Cioè sta potenza di acquisto Non so come dirti Perché io so come funziona un po' Attenzione La stack house è giovane Ma Nicola fa ristoratore da 20 anni Ah ecco è vero Bravo Bravissimo Posto promosso Prezzi assurdi Per me è un ristorante Che merita assolutamente una visita Quindi per me è promossissimo Chi vuole il gourmet Trova il gourmet Chi vuole i bistecconi Trova i bistecconi C'è il Josper Che fa la sua parte E i dolci Non sono niente male Ci torneresti? Sì E tornerai a fare video con me? Vediamo Brava Così mi piace Guardo dei latini Ciao ragazzi Un abbraccio Ci vediamo al prossimo video E che l'abbraccio sia con voi Ciao Ciao